Solito turno in agrodolce per il massimo campionato regionale di eccellenza, una vittoria, un pareggio e una sconfitta per le Irpine. Ma procediamo per ordine. Missione compiuta per il Cervinara che al canale da Cioffi supera 1-0 il Calpazio grazie alla rete di Di Costanzo e per la prima volta in questo campionato esce fuori la zona retrocessione diretta. Mister Renato Cioffi trova il suo secondo risultato utile di fila dopo il pareggio nel debito Irpino con la Virtus Avelino Santo Stefano. E ora per i Caudini il proseguo del campionato sembra più sereno. Buon punticino per la Virtus Santo Stefano in casa della Pro San Giorgese. I ragazzi di Vila Armonico ridotti all'unicino delle assenze. Mancavano al match. Intera Salernitana, Ripoli e Le Russe e Cuciniero su tutti e allungano sulla zona play-out. K.O. invece per il solo fra di Rapolo che proprio non riesce a scuotersi in casa del Ciffoni decide la zampata dell'ex attaccante del Cervinara Cirelli. Finisce 1-0 per i salernitani. In presa del Lions Mons, Miltumo Montemiletto, gli sgambati che pesca la semifinale di Coppa Italia di promozione batte ai cacci di rigore la Corazza Teraclea dopo una lunga battaglia dagli 11 metri. I Montemilettisi ribaltano il 2-0 dell'andata, subito a Candela grazie ai gol di Saveriano e di Detler al 94esimo.